amici di weekend dance buongiorno appena svegliato e non so cosa fare sinceramente questa mattina cosa potrei fare dove potrei andare insomma è una giornata calda e io voglia magari che ne so di volare con la fantasia potrei andare in montagna vicino al laghetto in collina ma sento sento qualcosa dietro di me che si sta alzando elettricamente ma guardate un po ma mi trovo all'idola fiesta nel centro benessere marina di schitella e allora max vieni un bel massaggio al centro benessere buongiorno buongiorno e allora amici miei dopo un bel massaggio una buonissima insalata di mare tutto questo l'idola fiesta marina di schitella comincia l'avventura grazie max prego buonissima missili missili me ne arrivano tantissimi fortissimi non li tiriamo più buonanotte un bacio amore mio lo cancello e via non si fa pace con i missili missili me ne arrivano tantissimi fortissimi non li tiriamo più buonanotte un bacio amore mio sono già pensato più di mille volte più di mille volte a raggiustare quel disastro buonanotte un bacio amore mio sono già pensato più di mille volte più di mille volte avete già mangiato non ancora chiama isabel allora possiamo farti questa degustazione di insalata di mare fresche vediamo com'è buona molto buona vada lì a telecamera ci vediamo anche dal viso se piace la degustazione ogni domenica l'idola fiesta farà questa degustazione quindi sotto sotto mezzogiorno mezzogiorno e mezzo saremo qui con le telecamere a documentare se questo è gradito per lei è gradito molto angela facciamo sta degustazione dai tutto in diretta o ammala vediamo un po dal viso di angela com'è 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 quest'insalata di mare la aeroplanino vediamo dal viso buono buono l'idola fiesta questa mattina si è superata dando ai propri clienti anche una degustazione buon mare buon mare ma fermiamoci con questi panini ma basta con i panini troppe calorie buongiorno 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 birra padre allora ascolta guardate come siamo carini l'idola fiesta questa mattina ha pensato a voi clienti una degustazione di una buonissima insalata di mare mastica bene 40 masticazioni al minuto finito? ecco qua vediamo insalata di mare l'aeroplanino apriolo oppila buono meglio questo o il panino? meglio questo la pescata Pio Brandi il titolo è proprio Pio stanotte la pescata l'ha fatta vediamo buono dillo in camera buono Pio ci manca un po' il limone il limone aspetta ci manca il limone apri bocca apri bocca questo è il limone questo abbiamo anche il limone buona esterna grazie grazie a te oh apri la boccuccia buono c'è il limone? si è un bambino poco o molto? no va bene il limone c'è altrimenti do anche il limone no che non c'è due bagnanti che arrivano andiamo subito a conoscerli nome Giuseppe Emanuele non avete ancora mangiato? gradite una degustazione di insalata di mare dell'idola fiesta che la offre? apri la boccuccia l'aeroplanino uno e arriva anche l'altro verifichiamo adesso se è gradito com'è? buono ottimo non la voglio quando torno in città tanto non mi guarda mamma mare che va ma ci pensiamo domani se nasce un problema poi scivolare l'idola fiesta marina di ischitella tante innovazioni questa estate e dopo il centro benessere un'altra grande novità all'idola fiesta marina di ischitella fiera del baratto prossimamente quindi per tutti gli spuntisti interessati prenotate naturalmente il vostro posto piazzola al numero 366 432 50 20 fiera del baratto l'idola fiesta prossimamente quindi tutti gli spuntisti possono chiamare e prenotare il posto piazzola al 366 432 50 20 degustazione di questa buonissima insalata di mare come si faceva molti anni fa arriva l'aeroplanino apri la bocca un attimo che continua la masticazione 40 masticazioni al minuto buonissima buonissima complimenti buonissima un po' di masticazione e poi vediamo se la signora ha gradito il nostro omaggio culinario dell'insalata di mare complimenti buonissima tutto a posto non è che c'era un po' di limone no? buonissima buonissimo buon mangio grazie lei ha mangiato no? no è presto gradisci una degustazione di insalata di mare un pezzetto questo è un pezzetto la facciamo penso di sì la facciamo arriva all'aeroplanino apri la bocca mazza è un pezzone questo tra poco come è signora? buono un altro po' di limone un altro po' di limone ecco qua no signora noi abbiamo tutto non si preoccupa apra ho detto a Pio che mancava il limone fortunatamente l'abbiamo portato va bene un altro po' di limone signora va benissimo grazie buonestate grazie e allora vogliamo fare questa degustazione dell'insalata di mare preparata da Pio? certo allora l'aeroplanino parte oh apri bocca oh uno a breve la nostra amica ci dirà annuisce se l'insalata è buona o meno com'è? buonissima manca limone? no tutto a posto arriva il tuo nome? Francesco lui è un po' più grande diciamo questa piccola degustazione l'aeroplanino più piccolo che paraculo aspetta aspetta che quello non è piaciuto un po' più grande come limone via vuoi tutto il bassoio? un pezzettino tutto tutto o l'inclusivo e arriva l'aeroplanino per il tuo nome? Anna vieni da? Parete Parete Anna a breve sapremo se? buono limone? no va bene? avete mangiato? no andrei fatto mangiato ragazzi eccomi mangiato che mangiato? ma che mangiato? è un'insalata di riso un'insalata di riso un'insalata di riso ma un'insalata di mare ed eccoci qua Max arriva la degustazione dell'insalata di mare quindi aboliamo quella di riso di mare e l'aeroplanino arriva apriamo qualche attimo e la nostra amica ci dirà se merita o meno un limone 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 eh? io ti ho detto il limone niente da fare vediamo invece il tuo nome Angelo arriva anche per te l'aeroplanino della degustazione ah mi preparo già perché non c'è un limone un limone sempre un piacere di trovare Maria Rosario come stai? tutto bene anche per me è sempre un piacere rivederti vedi che bella in che bella posizione ci troviamo in questo momento panchina rivolta dietro di noi ombrelloni clienti e il mare sì certo e ricordiamo sempre che è una domenica quindi da non sottovalutare questo dato di fatto che è una domenica sold out e poi naturalmente non dimenticate per il mese di agosto dal lunedì al venerdì 7 euro il lettino 7 euro l'ombrellone mentre il sabato domenica e festivi 8 euro il lettino 8 euro il lettino 8 euro l'ombrellone tutto il mese di agosto il mese di agosto il sabato la domenica e di festivi se venite dal lunedì al venerdì per il mese di agosto 7 euro il lettino 7 euro l'ombrellone ma ci sono tante novità tante cose belle per il ferragosto organizzatevi organizzate pure tu e sì sì ci organizziamo e soprattutto come ricordavamo l'altra volta i papà i papà organizzatevi con i papà ma con la famiglia con le sorelle i zii perché questo è un posto dove la famiglia chiaramente è da protagonista ma anche i giovani fa piacere vederla e ce ne sono tanti questa mattina sì sì ce ne sono tanti devo dire la verità è un lido per tutti è un lido per tutti voi lido la fiesta marina di ischitella buon'estate buon'estate a tutti noi ci rifociliamo anche con due cocktail che ci offre Francesco Francesco naturalmente si occupa della gestione bar panineria cocktail rosticceria 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 cornetteria e caffetteria riprendiamo per la cura a pranzo bisogna esclusivamente mangiare qualcosa di buono lido la fiesta certo certo abbiamo tante novità quest'anno abbiamo anche i drink alla spina abbiamo un drink nuovo che si chiama il paloma è fatto con un belma rosa lime e tequila si pranza tranquillamente da mezzogiorno alle 13 quello è l'orario no? sì sì siamo fino alle 15 siamo sempre operativi per la cucina abbiamo i rosticcieri in sede perfetto cosa aspettate allora quando si fa l'ora si mangia si mangia sì sì vi aspettiamo qua poi abbiamo portato un po' della nostra cremina perché noi veniamo dal mondo del settore del caffè facciamo il caffè con la nostra cremina con crema di latte abbiamo già dei punti ad avversa in più apriremo sempre nei pressi di via Roma via via Belvedere numero 2 sempre rosticceria panino te che la mattina sarà tavola calda per l'università in bocca al lupo per tutto buon lavoro grazie grazie da lì dalla fiesta ciao weekend dance grazie a tutti grazie a tutti